Via Libera della Giunta al programma 2017 della cooperazione allo sviluppo, stanziati 3 milioni e 800 mila euro per progetti in Africa, Medio Oriente ed Asia. Con relativamente pochi soldi si possono fare grandi cose per sostenere la popolazione e soprattutto noi sempre puntiamo a progetti sostenibili, nel senso che danno poi benefici nel tempo per lo sviluppo proprio del territorio, dando la possibilità alle persone di crearsi poi la cornice per potersi costruire un futuro. Politica alimentare e sostenibile, questo è il tema dell'intervento del Presidente Compatcher presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, dove incontrerà anche il nuovo Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Tutela dei prodotti regionali e rispetto dell'ambiente sono le priorità. Oggi vige il principio della concorrenza totale e per quello io non posso dire piuttosto del formaggio olandese, preferisco quello sul tirolese che sia utilizzato nei nostri ospedali. Uno di questi temi, una delle proposte di questa iniziativa, ci sono tante altre, anche molto concrete, è che questo in futuro dovrebbe essere legittimo farlo, perché protegge non solo la filiera corta, ovviamente e con ciò i posti di lavoro, lo sviluppo del territorio, soprattutto anche per esempio quello di montagna o altro, ma protegge anche l'ambiente perché i percorsi sono molto più brevi, c'è meno inquinamento e oltre a questo garantisce anche una determinata qualità del prodotto. Il programma operativo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2014-2020 ha destinato all'Alto Adige 136 milioni di euro per i progetti dell'asse Ambiente Sostenibile riferiti al risanamento energetico. Grazie a tutti. Grazie.